Riconquistare Tikrit. L'esercito iracheno ha lanciato lunedì mattina un'operazione per riprendere la città che diede i natali a Saddam Hussein finita a giugno sotto il controllo del sedicente Stato Islamico. Con 30.000 uomini impegnati sul campo, non solo soldati ma anche appartenenti alle forze di polizia e alle milizie scite, l'appoggio di truppe iraniane dell'aviazione irachena e internazionale si tratta di una delle principali offensive lanciate da Bagdad contro i jihadisti, annunciata domenica dal primo ministro Haidera al-Abadi. Il nostro obiettivo è liberare la gente dall'oppressione e dal terrorismo dell'ISIL, dobbiamo proteggere i cittadini e le loro proprietà. Un tentativo di rassicurare la popolazione civile sunnita della città, timorosa di ritorsioni e violenze, denunciate in altre situazioni in cui sono intervenute le milizie scite contro i combattenti della Jihad. Grazie.